Buongiorno a tutti sono Paolo Mola e volevo invitarvi in qualità di chairman a quello che sarà l'evento culturale più importante di quest'anno che è l'Euclar Symposium che si terrà a Torino nella mia bellissima città all'ingotto il 7 e l'8 giugno. Questo evento, questo evento culturale, questo congresso prevede la partecipazione di relatori veramente di altissimo livello e tra questo vi menziono quelli che sono i miei colleghi di fama internazionale quindi tra cui August Brughera, Oliver Briggs, Alessandro Ielasi con Paolo Miceli, Yuki Momma, Giuseppe Mignani e Michele Temperani. Ripeto veramente un parterre dei relatori di altissimo livello che porteranno all'interno di questo congresso tanta cultura, tanti spunti di riflessione e sono quelli che detteranno il trend per i prossimi anni. Quindi mi raccomando vi aspetto numerosi, non potete mancare un evento così importante, ricordatevi il 7 e l'8 giugno a Torino all'ingotto Symposium Ivo Clare. Grazie.